il senso di stufilo è poco potente perché è livello 1, toglie pochissimo, però lo scudo è troppo potente ci riduce i danni di un sacco, poi se vai contro un'altra rosa è normale che ti fai subito lo scudo oppure se vai contro l'altro tank andiamo, ora si rifà ultimi 30 secondi, vieni qui però bella nera, oh bella, rimettiamo subito la cosa e indireggiamo poi quella super è una rosa molto più grande di tutti gli altri bruno, 4, 3, 2, 1 e vittoria, con rosa ovviamente, vittoria non sono il migliore però raga apriamo sto cassa, vediamo un po' che ci troviamo, ci ho trovato dei raddoppi oggettoni, andiamo in ricercati raga ho provato a fare un sacco di ricercati ma non lo fa, quindi giocheremo una sopravenza in duo con un'altra rosa ovviamente, doppia rosa, quanto utile, beh sì, doppio scudo quindi, tutto è rosa, ok tutto è rosa, l'armata di rosa, ovviamente il nuovo brawler l'avrà proprio tutti e ce l'avranno tutti al grado 1 ecco qui, lei ha lo scudo infatti lo utilizza, lo utilizzo anch'io vai, ammazzala no che cos'è però è una scudanza questa è per lui un po' troppo forte, vieni qui, scudo sono P, scontro finale ok, 7 e non è solo lei, quindi no 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 no, l'ammazzata sono tutte rosa, vabbè vai vinci, vinci, grande grandissima rosa buona Grazie a tutti.